buongiorno ragazze buon venerdì nel video di oggi voglio farvi vedere come fare una scatola come questa una scatola normalissima fondo coperchio ovviamente non utilizzerò le stesse dimensioni sempre per problemi di inquadratura faremo una scatola un pochino più piccola però il sistema sarà sempre quello deciderete voi gli abbellimenti e l'eventuale cartoncino quello che posso dirvi io è che ho utilizzato partendo da un foglio a 4 del cartoncino bianco di grana 240 per il fondo e un cartoncino colorato che ora vi farò vedere acqua che è una grana più sottile vedete quello qua questo è per il fondo e questo per il coperchio il fondo è bianco grana 240 il coperchio è un azzurro molto tenue acqua bianchi credo sia una 2 10 più o meno come cartoncino quindi ci serviranno questi due cartoncini il fondo 5 x 5 per scusatemi la scatola verrà 5 x 5 x 3 il fondo sarà 13,3 x 13,3 cm questo cartoncino mentre il coperchio sarà 13 x 13 avremo bisogno poi di due fondelli che io ho deciso di farne uno bianco e uno acqua e le dimensioni sono all'incirca 4,9 x 4,9 ovviamente essendo una scatola fatta a mano può essere che una volta tagliata e piegata i fondelli siano leggermente da ritoccare perché è proprio questione di millimetri però io comunque partirei da un 4,9 x 4,9 cosa vi serve oltre al cartoncino vi servirà del biadesivo del biadesivo o della colla prit quella permanente se avete quella semi permanente ragazze ve la sconsiglio per fare questo lavoro perché quella semi permanente si stacca la scatola ho provato la scatola mi si è aperta quindi io uso sempre quella permanente cercando di fare attenzione a come faccio le pieghe vi dico la verità una scatola di queste dimensioni così piccina io non l'ho mai fatta quindi ora la facciamo insieme quello che ci serve è la nostra envelope punch board una forbice per tagliare la carta o un cutter e ovviamente vi servirà una riga e una matita per tirare il segno io tutta la parte del taglio carta non ve la faccio vedere perché ognuno poi decide sia le dimensioni che come tagliare la carta che come come fare allora partiamo nell'info box io poi vi metterò tutte le misure per arrivare alla fine di questo lavoro io parto sempre di solito con il fondo allora il fondo abbiamo detto che è un 13 3 per 13 3 la prima piega verrà fatta a 4,5 quindi mi posizionerò mi posizionerò sulla envelope a 4,5 eccola qua faccio il primo punch e la prima piega faccio il secondo punch e la seconda piega perdonatemi se si muove un po il video ma purtroppo il telefono è su un supporto che balla non è un supporto proprio professionale sicuro quindi quando mi muovo io si muove anche lui spero non soffriate di mal di mare faccio tutto il giro posizionandomi posizionandomi questa astina sulla riga della 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 piega precedente del punch precedente chi sa usare la envelope sa di che sto parlando chi non sa usare nel nel mio nella mia playlist ci deve essere una sezione in cui vi parlo della envelope e sicuramente troverete il tutorial che vi spiega come posizionarvi come fare le pieghe comunque ragazze è veramente elementare mi posiziono e rifaccio di nuovo il giro ora una volta fatto tutto il giro io mi riposiziono tenendo la parte più corta da questa parte per fare la seconda piega che è a 8 e 8 quindi mi posizionerò a 8 e 8 e farò la seconda piega il secondo punch e la seconda piega panso e faccio e tiro la riga panso e tiro la riga e faccio nuovamente tutto il giro in questo modo eccola qua quello che voi alla fine vi troverete è questo vi troverete il vostro foglio con tutte le righe ora tramite queste righe dovremmo fare tutte le pieghe del caso quindi procedete in questo modo fate la piega e magari aiutatevi a rimarcarla con la pieghetta della envelope allora vi faccio vedere ho fatto la prima vedete il la puntina faccio in modo che venga sotto e che venga piegata perché poi verrà all'interno della scatola e non si vedrà faccio come vi dicevo tutto il giro procedendo sicura sicura con tutte le mie pieghe in questo modo ragazze logicamente se voi utilizzate una carta un po più leggera rispetto alla 240 che sto usando io vi verrà molto più facile fare le pieghe ma a parer mio la scatola verrà molto meno solida infatti è per questo motivo che la maggior parte delle mie scatole delle scatole che ho fatto fino adesso le ho fatte bianche o al limite con il coperchio colorato proprio perché utilizzare le carte troppo leggere viene difficile anche lavorarlo allora cosa devo fare ora dovrò tagliare vi faccio vedere dovrò tagliare uno di fronte all'altro qui e qui e qui e qui da entrambi i lati io forse ho una forbice anche eccessivamente grande quindi dovrò tagliare qui dovrò tagliare qui vediamo se riesco a tagliare senza fare 200 tagli eccolo qui eccolo qui dovrò tenere questo vedete ora dobbiamo procedere con il comporre la scatola vedete che il cartoncino va verso l'interno quello che devo fare io sarà mettere il mio adesivo che può essere di adesivo oppure può essere la colla sulle alette su queste verso l'esterno nella parte che andrebbe verso il tavolo quindi prendo la mia colla e faccio questo lavoro da tutti quattro i lati in questo modo dopodiché procederò con l'incollare con mettere la colla nelle qua nei quattro lati e la metterò in questo modo la metterò così la metterò così faccio tutto il giro e la metterà così se non siete sicure nel senso che a me capita ora questa è una scatolina piccola e va bene vedete come ho messo la colla se la scatola un po più grandi e non siete sicuri della tenuta la colla potete metterla o il nastro potete metterla in orizzontale non in verticale questa essendo una scatolina piccola non dovrebbero esserci problemi di tenuta ora procediamo con la composizione della scatola dovrò la prima cosa che devo fare dovrò sollevare la parte dove ho queste alette posizionarmi più correttamente possibile vedete eccolo qui e incollare lo facciamo da entrambi i lati in modo e uno per volta in modo da essere sicuri di andare dritti mi posizionerò più dritto possibile e basta semplicemente una pressione delle dita e la prima parte della scatola vedete si è chiusa farò la stessa cosa con la seconda la seconda parte logicamente ragazzi più piccola è la scatola più difficoltà avrete perché non c'è molto spazio di movimento però vi assicuro che una volta che ci avete preso mano è veramente facile ed è divertente una volta vedete la nostra scatola già preso forma ora partendo dalla parte in cui ho vedete le alette che si sovrappongono faccio questo spingo la mia puntina verso il fondo della scatola da una parte e dall'altra in questo modo e poi richiudo anche le altre due a questo punto che il nostro fondo piccolino ma veramente veramente grazioso è pronto eccolo qui ora ho decido di mettere il fondo di questo colore io mi sono già mi vedo già che secondo me questo fondo un po troppo grande allora il fondo risulta un pochino troppo grande quindi cercherò ma no ho detto una stupidaggine ragazzi non avevo spinta abbastanza allora adesso devo anche tirarlo fuori perfetto adesso lo estraggo perché lo voglio fermare e per fermarlo come faccio non faccio altro che mettersi un paio di nastrini di polla lo inserisco e schiaccio il fondo quindi la vostra scatolina eccola qui questo è il fondo della vostra scatola ora dobbiamo procedere con il coperchio il coperchio come vi ho detto lo facciamo così ok uguale all'interno allora il coperchio ve lo ripeto è 13 per 13 la pieghe le pieghe dovranno essere fatte a 4 e 7 la prima e a 8 e 3 la seconda io adesso ragazze procedo vi stop e procedo perché allora il procedimento è identico a quello del fondo e per evitare di fare un video troppo lungo io per il momento vi vi stop e torno quando avrò fatto tutte le pieghe sappiate che il procedimento è identico vi ripeto le misure foglio 13 per 13 la prima piega 4 e 7 la seconda piega a 8 e 3 eccomi di ritorno quello che ho fatto è stato fare tutto il lavoro quindi metterlo sulla embello punch board una cosa che vi raccomando è se la carta non è double face ovviamente appoggiate la parte colorata sulla base della embello punch board e lavorate sul rovescio in modo che una volta che si piega la parte bella rimanga all'esterno allora cosa ho fatto ho fatto tutto il giro ho fatto le pieghe ho tagliato e ho messo la colla vi faccio rivedere il procedimento per chiuderla quindi parto da un lato cercando di chiuderlo più correttamente possibile più dritto possibile questo è un lavoro molto semplice ma che viene che deve essere fatto in modo abbastanza certosino perché diciamo che è la parte in cui si stabilisce la la quadratura della scatola se fate le pieghe un po fatte fatte male ovviamente il coperchio oppure il fondo verranno storti allora procedo di nuovo mettendomi giusto giusto in riga schiaccio giusto giusto in riga schiaccio chiudo 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 è veramente semplice 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 eccolo qui logicamente ragazze vi accorgerete utilizzando la carta a grana 240 e poi in questo caso io sto usando un 200 un 210 non ho esattamente l'idea di che grana sia vi accorgerete che è molto più difficile da lavorare molto meno stabile però diciamo che per il coperchio va più che bene anche in questo caso voglio metterci il fondo quindi misuro il fondo è corretto adesso la parte bella la parte più bella di quando si fa una scatola la parte più bella di quando si fa una scatola è verificare io ho detto una bugia ragazze nel senso che questo cartoncino è troppo piccino va bene comunque vedete che casino riesco a fargli da sola allora il cartoncino risulta un po più piccolo voi comunque fate una cosa per il fondo se la scatola e 5 x 5 x 3 per il fondo state su un 4 e 9 x 4 e 9 per il coperchio che ovviamente è un 5 x 3 x 5 x 3 ho fatto io l'errore il fondo va un po più grande fate più o meno sul 5 x 5 io ora non sto qui a rifarlo perché per il tutorial va più che bene fate in modo di centrare il fondo e lo incollate per bene in questo modo la cosa la parte più bella di quando si fa una scatola è vedere se il coperchio il fondo sono compatibili e in questo caso eccole qui lo sono la scatolina è piccolina molto graziosa io ve lo ripeto preferisco usare sempre di cartoncini un po più resistenti perché trovo che sia sì che sia poco resistente però se vi piacciono comunque le scatoline un po' colorate questa qui è molto molto tenue devo portare oggi devo consegnare la mia amica camilla ciao cami un bracciale che se ce l'ho qui da qualche parte ve lo mostro sì eccolo qui che è quello che avete visto in un video creazioni che ve l'ho presentato in un video creazioni ho deciso di consegnarglielo con la scatolina e quindi ho deciso di utilizzare la scatolina sull'azzurro ora metterò un fiocchettino un nastrino e a camilla consegnerò questa se vede il video prima ma non credo il video l'ho posto domani e la consegna e questa sera questa è la scatolina logicamente ragazzi vi faccio vedere che dimensioni sono molto differenti adesso questa va bello tolto ho tolto ho tolto un pezzo questa qui comunque vedete che dimensioni sono differenti io ne ho fatte diverse di scatole fatte veramente di anche di dimensioni rettangolari vi dicendo come vedete quasi tutte ho utilizzato comunque un cartoncino un po più resistente detto questo spero che il video vi sia piaciuto che il tutorial piuttosto semplice vi sia piaciuto vi lascio tutte le dimensioni della scatola per procedere nell'info box se avete bisogno di consigli se ne avete da darmi vi lascio anche tutti i link su dove trovarmi o potete lasciarmi un messaggio sotto al video se il video vi è piaciuto pollice in alto se vi piace il canale iscrivetevi innanzitutto ringrazio tutte le amiche che si sono iscritte i messaggi che mi mandate siete carinissime e dolcissime vi mando un bacio vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao